Adesso è un momento che io amo in particolar modo perché è un momento culturale di cui questo è un poeta, un cantautore che di solito dispensa le sue poesie, le sue canzoni per strada, stasera è venuto qui per condividerle con noi signori Pierre Marchier! Questa che vedete è la man viola, è uno strumento che ha creato lui, è un po' un mandorino e un po' viola, la man viola, è vero che il Marchier è proprio così, non è che fa tinta è proprio così, con la cattà mamma. Allora, prima che tu vai per strada e ci vuoi esporre qualche tuo ultimo successo, che c'è? Non voglio immaginare dove avevi questo poeta, da vero, per farci fare, allora, Pierre allora, qualche ultimo successo, vuoi esporre? Successo? E' capace di successo Ah no E' capace di successo Eh no, è il successo Sì il successo Sì il successo, per cui la conto volete, è il successo, va Lo volete nel quadro, eh Io canto, canto di per strada, e la gente mi dice così Si bello piscio, si bello piscio, si bello piscio, si bello piscio, si bello piscio Sì bello piscio è più essere più buono, è più bello, è più bello, è più bello Però i pisciori mi sembrano un passo assolutamente cum madre per buona come risoluzione Però tu qualcosa che invece dedichi al pubblico, però qualcosa di spessore, di intellettuale, di romantico, di romantico allo stesso tempo, è un mia, è una, va pure la mia città. Amica mia, tu non lo sai, donna di fumo sei, dalla mattina fino alla sera, ti fumi i giorni tuoi, ti fai le carne e pensi di più, pensi di esistere. Anche tu, ma sei una ballera, guallari, guallare, se tu in sonnambula, guallari, guallare, se solo fumo, con te vi consumo, ma sei una ballera, guallari, guallare. Grazie mille, parchiere, grazie. Bene, Piero, facciamo qualche altra cosa, ho dato il tuo successo, il tuo successo, questo è piaciuto molto, questa cosetta elettuale della WAM, la direi che ha colpito molto. Io lo sento di io queste parole. Sì, sì, però c'è uno dei sementi di un WAM, va bene, mille, parchiere. Una cosa, una ispirazione, una ispirazione. Gli miscili, di miscili, di miscili, di miscili, di miscili, tu, vuoi chi ha? Via, via, via. Via, via, via. ma dai, poi cosa sei? un cantore bella, un cantore culturale l'asta aspettando lui è venuta a posto del tema, è una cosa culturale quindi è venuta a riscerezza ecco avancur 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 anche tu se non riesco ad essere come sei se ti fai da sempre fatti se tu stai così se ecco allora è una cosa buona dopo si se 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 quello che vuole che vuole se se si scusa ma quando le persone che incontri per strada dici che entro guallera eccetera 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 come ti rispondono? grazie 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 grazie